Signor Presidente, è per me un grandissimo onore essere qui ricevuto ancora una volta da lei, Massimo Autorità dello Stato e Comandante delle Forze Armate, alla presenza della pattuglia acrobatica e di tutto il personale che ha contribuito a far sì che questi ragazzi volassero nei cieli degli Stati Uniti del Canada portando il nostro tricolore. Buongiorno Signor Presidente, sono il Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore, sono il Comandante della pattuglia acrobatica nazionale. Bene, come accennava il nostro Signor Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, la pattuglia acrobatica nazionale è rientrata da poco da un lungo tour in Nord America. È stato un tour molto impegnativo, è stato un tour che abbiamo terminato con successo e in sicurezza grazie al gioco di squadra di un'intera Forza Armata, l'Aeronautica Militare. Grazie Colonnello, grazie Generale. Per me è una bella occasione, benvenuti. Mi ha mostrato Colonnello un percorso affascinante che avete compiuto, non soltanto sorvolando zone davvero piena di fascino e immagino lo spettacolo dall'alto deve essere stato indimenticabile, ma che avete portato l'Italia lì, rafforzando ulteriormente l'amicizia con Canada e Stati Uniti e soprattutto entrando direttamente in contatto con tante persone presenti nelle varie occasioni, nei vari luoghi. Avete portato anche un messaggio di casa ai nostri connazionali che vivono lì, che certamente si sono sentiti, come lei diceva, coinvolti in maniera straordinariamente intensa. Grazie per tutto questo. Voi siete uno dei simboli nazionali. Non soltanto perché si riconosce la nostra cittadinanza nelle frecce tricolori di una pattuglia acrobatica. Siete anche un suscitatore di entusiasmi perché dovunque andate si crea entusiasmo vedendo la capacità, la perizia, la straordinaria manifestazione di governo di mezzi così complessi come sono gli aerei di cui vi avvalete. Ma naturalmente io so bene quanto ci sia dietro tutto questo un grande lavoro impegnativo di addestramento, di preparazione, di squadra, di collegamento, di assistenza di cui curi mezzi, di chi interloquisce con i piloti a terra prima del volo e poi nel collegamento a eroteri in volo. È un mosaico complesso che rende ancora più ammirevole quello che fate. Grazie davvero sempre nelle tante occasioni in cui, dall'altrata della patria, nelle occasioni più importanti, alla tante altre circostanze, occasioni, ricorrenze in cui sorvolate le nostre città, siete sempre accolti e guardati con grande riconoscenza. Grazie quindi, colonnello. Grazie alla pattuglia. Grazie all'aeronautica generale. Grazie per questo. Anche per l'opera sarà stata l'immagine, come diceva il colonnello, complessa nel preparare il passaggio così intenso, così articolato su tanti territori. Grazie generale, grazie davvero. Lo metto accanto agli altri due che già ho. Una stanza dedicata alla pattuglia. Adesso le presentiamo il futuro delle frecce tricolori e per farlo siamo rimasti in linea con il principio, la filosofia, lo stile e l'eleganza delle frecce. Grazie, grazie a te. Grazie a te. Grazie molto, Roberto.